Il problema è che in questi ultimi 15-20 giorni sono successe una serie di cose che portano un'incertezza generale molto grosso. Se 15-20 giorni fa le richieste e le prenotazioni, sia per Natale che per l'ultimo dell'anno, fioccavano da tutte le parti, negli ultimi 20 giorni sono sopradunte molte disdette dovute da vari fattori. Il primo fattore è stato sicuramente il Super Green Pass, che qualcuno, nelle committive numerose c'è sempre qualcuno che non era in regola e quindi magari hanno preferito fare scelte diverse. Il secondo fattore è che questa variante nuova spaventa un po' tutti, anche perché non si è capito bene quali possono essere le implicazioni. Il terzo fattore è che il virus è iniziato a circolare in maniera predominante sia nella provincia che in città, quindi ci sono molte quarantene preventive, ci sono qualcuno che sta male e quindi fa sì che un clima di incertezza ne è venuto fuori, soprattutto per il giorno di Natale. L'ultimo dell'anno invece tutti stanno navigando a vista perché in realtà nessuno sa che cosa succede, perché diciamo che domani ci dovrebbe essere il famoso comitato di regia del CSM, dovrebbero fare delle decisioni, impostare magari nuove regole, nuove cose e poi c'è la novità che lunedì siamo gialli, quindi dicevano determinati fattori che addirittura c'erano delle possibilità di diventare anche arancioni, quindi sai diventa difficile programmare cosa fare da qui a cinque giorni o all'ultimo dell'anno. Sicuramente se tutto rimane invariato poi l'ultimo minuto saranno tutti pieni, saranno tutti contenti, sarà tutto regolare, però insomma adesso in questo momento i ristoratori stanno vivendo un momento di molta incertezza, soprattutto non sanno come organizzarsi perché bisogna organizzarsi sia col personale, le materie prime e cose varie, quindi diventa un problema. Diciamo che l'anno scorso il problema non c'era perché è richiuso quest'anno, il problema essendo aperti si propone in maniera massiccia, manca diciamo la prospettiva di programmazione e la certezza dei numeri su quello che devi fare e che non devi fare.